Ok, vedo che c'è molta festa, molta animosità questa sera nel studio, possiamo cominciare! Oh, oh, il copione, il copione per cortesia, signori un attimo d'attenzione, signori il mio copione... Date il copione a Jerry per piacere! Recchia, qualcuno... va bene non fa nulla, possiamo andare avanti così, vuol dire che me lo rifaccio in un attimo, scusa Recchia, una macchina da scrivere! Come dici? Ah, quella soltanto per Renzo Villa, vabbè, allora non so, un tavolino, un piccolo tavolino, neanche il tavolino non c'è, ah, quello va per Ettore Andenna, vabbè che io sono nuovo dello studio qui però, insomma, una sedia almeno, una sedia, c'è una sedia? Ah, c'è la sedia? Ah, non me la porti? Devo pure andare a prendere la sedia, vabbè la vengo a prendere io, va, dai, dai, dai qui! Almeno la sedia, almeno la sedia, vabbè, facciamoci sto copione! Grazie! 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 Grazie!